Quali sono i principali ostacoli che le persone con disturbi del neurosviluppo e più in generale con disabilità incontrano nell'accesso alla dimensione spirituale? Bene, come entriamo tutti noi in contatto con le nostre dimensioni spirituali e non solamente loro. Forse tu come me, Veronica, siamo entrati in contatto con la spiritualità grazie alle nostre famiglie. La mia famiglia mi ha semplicemente portato in chiesa e questa era la nostra tradizione. Sono cresciuto in chiesa e con gli anni ho sviluppato il mio senso di spiritualità. Ho vissuto esperienze spirituali molto importanti in mezzo alla natura o venendo a San Pietro per la prima volta e ammirare la grandezza della Basilica o avendo un'esperienza meravigliosa con alcune persone. Posso sicuramente dire che le esperienze spirituali più profonde che ho vissute sono sempre nate dal mio tentativo di mettermi a servizio delle persone con disturbi del neurosviluppo o con disabilità di aiutarle, di celebrare con loro e soprattutto di imparare da loro. Ma troppo spesso le persone con disturbi del neurosviluppo non sono bene accolte in una chiesa. Io non ho mai avuto l'esperienza di non essere accolto in una chiesa. In qualunque chiesa andassi ero sempre il benvenuto. Ma a volte le persone con disabilità non sono benvenute o non crescono nella chiesa o in una sinagoga, non so. Forse hanno la sensazione che la famiglia sia delusa o arrabbiata per ciò che la loro chiesa non ha fatto o che nessuno li abbia mai accolti e celebrati come bambini. Forse hanno avuto difficoltà a farsi battezzare o a fare la prima comunione o a essere cresimati. Quindi le barriere più grandi penso siano quelle della tradizione. Perché la gente a volte è stupita nel vedere in chiesa persone con disabilità. Non le abbiamo mai viste prima. Come mai ora? O forse perché erano semplicemente nascoste, emarginate, lontane. Ma quando le persone cominciano a venire e vogliono vivere la loro spiritualità nella chiesa, c'è una barriera purtroppo. Scortunatamente ci sono anche le barriere architettoniche. Se usi una sedia a rotelle, hai facile accesso in chiesa? O le barriere comportamentali. Le persone ti danno il benvenuto? Vengono da te, ti salutano, ti dicono che sono felici di averti qui con loro oggi? Sono quelle barriere di non rendersi conto che i tuoi bisogni e le tue domande spirituali sono proprio uguali alle nostre. Ma ci sono barriere anche più profonde. Forse hanno avuto esperienze di rifiuto, sono state vittime di stereotipi, persone che pensavano hai una disabilità, questo non sei in grado di farlo, non lo puoi fare. È quella capacità di guardare le persone come uguali a te, di chiedere loro quali sono i tuoi doni, qual è la tua vocazione. Benvenuto nella nostra comunità, impara con noi, cresci con noi.